Che cosa chiederebbe a Leonardo? A Leonardo chiederei come si può ritornare all'uomo. Lui era un uomo di una multidisciplinarietà disarmante, una grande capacità di sperimentare l'innovazione ed è esattamente quello di cui abbiamo bisogno oggi. Perché le competenze si creano semplicemente compromettendo stavolta? Perché siamo la società della conoscenza, ma siamo un po' meno la società dell'esperienza che genera nuove competenze. In particolare i giovani insieme agli adulti devono riscoprire l'importanza del pensare al fare.